Allora Mauriz, questa è la sfida che ti lanciamo qui dallo studio del Grande Fratello. Se tu andrai a tempo con i tuoi pettorali, mentre Orietta canta Tipi Tipi Ti, avrai stravinto. Vai Orietta! Tipi 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 Ti, dove vai? Tipi 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 Ti, cosa fai? Tipi 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 Ti, come mai? Lui questa sera non c'è, ha passato la prova, bravo, sei un grande, un grande.